E come Lega proporremo a tutti gli altri quello che è un programma alternativo alla sinistra socialista. Ma non mi interessa il passato, tutti insieme, tutti insieme con chi condivide le mie idee. Ovviamente non posso andare con chi apre alle eduzioni gay, con chi fa finta che l'immigrazione non sia in corso, anzi l'aiuta, con chi difende l'euro, con chi sta con la Merkel, quindi dovremo chiarire tante cose. Noi siamo pagati per fare qualcosa che serve ai cittadini. Se cambiando la Costituzione riusciamo a riportare in vita il concetto che chi sbaglia paga, con i costi standard, con il fatto che le regioni sono tutte uguali e devono spendere tutte la stessa cifra, io ci metto la faccia. Su tutto il resto, per quanto mi riguarda, il governo Renzi è più pericoloso dei governi Monti eletta precedenti, quindi io do il sostegno se serve ai cittadini, altrimenti gli faccio la guerra ogni quarto d'ora. Ieri due cose hanno chiesto. Alfano ha detto dateci un mano sull'immigrazione, picche. Renzi ha detto fateci spendere i soldi per gli investimenti, picche. Basta, colpito e affondato, ritirati. Ok, quindi come agire adesso in Europa, visto che ci dicono... Non andare a chiedere, ma fare. Ci sono delle regole demenziali che ci stanno facendo morire di disoccupazione, non chiedo di poterle infrangere, le infrango e me le fotto.